Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico In questo episodio parleremo molto rapidamente di audiobook poi di libri in copyright contro libri in copyleft e infine la distribuzione in digitale Gli argomenti sono tanti, non perdiamo tempo ed entriamo subito sui temi Audiobook Oggi vanno di moda molti scrittori convertono i propri libri in audiobook e sia in file mp3 che poi diffondono gratis oppure a pagamento altri scrittori diffondono libri interi in mp3 in modo gratuito per farsi conoscere altri invece distribuiscono solo l'introduzione oppure leggono un capitolo per contattare ed invogliare i potenziali lettori a comprare oppure a scaricare gratuitamente il testo Io ve lo dico subito, me gli audiobook non sono mai piaciuti perché penso che un libro vada letto e non ascoltato Ho promosso alcune delle mie saghe di climate fiction sotto audiobook ma niente di più Non penso che il formato dell'audiobook sia utile perché un libro appunto deve essere letto Il libro può essere cartaceo provenienti da una tiratura di una stampante officer oppure da un pdf di una stampante laser ed inkjet appunto stampato da queste due periferiche oppure un libro può essere letto in pdf su un dispositivo digitale computer, notebook, smartphone e ogni quant'altra diavoleria vi possiate immaginare ma in ogni caso il libro va comunque letto quindi gli audiobook a mio avviso non sono libri quindi argomento chiuso Scrivere libri in copyright oppure scrivere libri in copyleft Allora, vi consiglio di ascoltare il podcast come pubblicare un libro in modo da avere un'infarinatura dei modelli di business del mercato dell'editoria quanto della situazione del mercato dell'editoria in Italia In questo podcast perorerò l'utilità di scrivere in licenza creative commons piuttosto che in copyright quindi per farla corta e breve In Italia il mercato dell'editoria è alla cana del gas specie il settore dei libri semplicemente perché in Italia ci sono più autori che lettori sia gli italiani non leggono né libri né giornali e nemmeno ascoltano la radio La fascia d'età di persone più anziane fruisce la televisione in digitale terrestre La fascia d'età intermedia, quella matura Guarda la televisione satellitare o lo streaming tematico I giovani stanno sui social network Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, eccetera Solo una piccola fascia di persone in Italia che legge libri, prevalentemente cartacei La quota di mercato degli ebook al 2020 è veramente ridicola Il pubblico dei lettori inoltre è prevalentemente femminile Questo è a grandi lidie e per sommi capi, corti e brevi la situazione che dovreste fronteggiare se scrivete in italiano Da questa situazione discende a mio avviso una naturale evidenza Se pubblicato un nuovo libro in copyright Ancorché solo in digitale Probabilmente il vostro ebook sarà uno dei moltissimi titoli che si aggiungeranno ai milioni di altri testi già presenti online Per far la corte breve nessuno comprerà il vostro libro Oppure saranno tre o quattro gatti Per cui a mio avviso se si ha qualcosa da dire è inutile usare il copyright Molto meglio il copyleft Se invece scrivete per danaro Beh, scrivere per danaro non è come avere qualche cosa da dire Per cui, buona fortuna Quali sono gli svantaggi di usare il copyleft Uno e uno solo Non si incassa un euro Punto Fin Quali sono i vantaggi di usare il copyleft I vantaggi sono davvero tanti a mio avvivo Se si ha davvero qualcosa da dire Basta poco Un word processor Una stampante pdf gratuita Una licenza creative commons E paf, si è già online Questi sono tutti ottimi strumenti per iniziare a scrivere In pdf Quindi non occorre fare testi da 300 o 3000 pagine Anche piccoli racconti possono diventare già degli instant ebook di pari dignità rispetto ai testi molto più grandi e voluminosi Pdf corti hanno a mio avviso più speranza di essere letti rispetto ai pdf con tantissime pagine Punto perché in Italia la gente legge poco e comunque la vita è corta e breve In Italia ci sono più autori che lettori quindi usando il copyleft a mio avviso è molto più probabile che si saranno letti dato che non c'è pagamento inoltre il testo in copyleft può circolare liberamente Il passaparola moltiplica i lettori e i download ed anche indirettamente il traffico del proprio blog Le pdf e il copyleft permette di sfruttare i download di impulso con i book trailer parcheggiati ad esempio su youtube Per un potenziale scrittore neofita che non ha mercato mettere il prezzo di vendita di un pdf ancorché a livello irrisorio a e quindi ad 1 euro 0,99 comporterebbe a mio avviso l'alto rischio di non fare ricavi oppure di sviluppare un fatturato talmente scarso ed infimo che per promozione sarebbe stato preferibile usare il copyleft per farsi conoscere ottenendo molti più contatti con i lettori Ci si accorge che i testi scritti hanno una utilità ed un valore ancorché utilizzando il copyleft perché dai download dei successivi ebook con prequel con sequel la somma delle condivisioni è solitamente o identica a quella del testo precedente oppure in rapida crescita rispetto appunto ai download del primo libro di una saga una volta costruita una o due saghe complete nulla osta di costruirne di nuove anzi di solito le saghe successive saranno migliori delle precedenti in teoria dato che si impara facendo quindi iniziare a scrivere diffondendo i propri pdf in copyleft a mio avviso è un'ottima cosa perché ci si crea per meno si prova a crearsi un bacino di lettori che un domani forse potrebbero anche decidere di pagare per leggere avendo già letto ed apprezzato usare il copyleft aiuta la gente a riprendere a leggere questo penso sia indiscutibile e quindi combatte l'analfabetismo di ritorno usare il copyleft allarga la platea dei lettori perché si contattano utenti che a mio avviso non avrebbero mai comprato un pdf ma essendo appunto i pdf gratis in free download è molto probabile che gli utenti anche solo per curiosità decidano di scaricare e forse probabilmente anche leggere a maggior ragione se il pdf è corto se si usano font grandi con interlinea grande con immagini a corredo che spezzano l'impaginazione in modo da ridurre il blocco classico testo con margini giustificato squadrato che scoraggia il lettore che non è avvezzo a leggere usare il copyleft educa il lettore si apprende che il costo marginale di un'opera digitale è zero quindi a mio avviso l'editoria italiana si sta scavando la fossa da sola dato che pone i prezzi di pdf ed epub troppo alti il costo della carta incide per il 70-80% del prezzo di un libro ecco i prezzi in pdf ed epub sono fuori mercato rispetto alla carta che comunque resta troppo gustosa pubblicare in copyleft indubbiamente è collegata al personal branding e content marketing sono ottimi strumenti da utilizzare se si ha davvero qualcosa da dire l'operatività diventa olistica purtroppo di pari passo cresce anche la saturazione degli utenti quanto la loro crescente superficialità inoltre crescono anche tanti stimoli in internet che sottraggono tempo alla lettura dei pdf che per questo a mio avviso più corti sono più leggibili sono come diciamo capacità di impaginazione e più diciamo le risorse in pdf sono leggeri quindi non impegnativi e tanto meglio secondo me è probabile che possono essere letti andiamo quindi al tema della distribuzione scribe issue calameo jumag sono comunità gratuite dove parcheggiare i propri pdf maggioranza da uno spazio infinito jumag da uno spazio limitato con account gratis in tempo c'era anche ubleasher e udo alla prima chiuso alla seconda non fa più caricare gratuitamente gli utenti google drive e blogspot sono ottimi strumenti gratuiti per allargare la condivisione di pdf poi c'è anche libri gratis e ebook gratis che di solito accolgono e recensiscono gratuitamente i pdf offerti dai potenziali autori ma i file devono essere molto leggeri in youtube potrete parcheggiare degli ebook trailer inserendo i link per solleticare gli utenti di youtube ad un download di impulso del pdf che appunto essendo gratuito e coperto da creative common potrebbe indurre diciamo un allargamento nella possibilità di lettura potete prendere un hosting con un domino e costruirvi un piccolo sito da cui permettere ulteriori download dei vostri pdf però questa soluzione non è gratis a differenza di usare le risorse di google come blogspot google drive da anche un redirect gratuito questa soluzione vi permetterà di emulare totalmente a costo zero la soluzione di avere un hosting con un dominio tuttavia avere un hosting con un dominio ha il vantaggio che lo spazio di hosting e vostro incluso il dominio avendoli comprati nel complesso quindi tirando le fila di questo pippone se siete ancora vivi e non mi si è bruciato il cervello a mio avviso sono ancora tanti i vantaggi di usare quindi le licenze di creative common piuttosto che il copyright anche se i social network si sono ridotti e diciamo si è ridotto anche lo spazio dove parcheggiare i propri pdf secondo me è ancora molto ampio lo spazio in rete e le possibilità di esprimere la propria opinione e diciamo la libera espressione delle proprie e proprie idee diciamo è ancora un diritto ampio e ben tutelato e quindi ci sono tantissime risorse e comunità e social network da utilizzare gratuitamente questa puntata è tutto un saluto ciao